Tragedia sfiorata questa mattina sull'S19 che collega Ebole a Battipaglia. Un ciclista che stava percorrendo la carreggiata è stato investito da un'automobile in transito lungo la statale. L'autista della vettura dopo l'impatto non si è fermato per stare ai soccorsi al malcapitato, finito fuori strada ed aiutato dai passanti che in quel momento transitavano sulla statale che congiunge alle due città della Piana del Sele. Il ragazzo per fortuna ha riportato soltanto feriterie. Su Facebook tanti messaggi di solidarietà al ciclista. Grazie a tutti.